Elementi d'arredo in legno di yacht di lusso, leggendari e limusini inglesi, jet privati, sottolineano l'individualità dei loro proprietari, come anche tutte le creazioni da bagno di ammonitum. Il nostro stile è lusso e funzionalità, glamour e modernità, abbondanza ed eleganza. Ma anche minimalismo, con la sua semplice bellezza. Colori neutri e forme semplici. Tutto iniziò nel 1997, quando il designer di Monaco di Baviera, Marcus Horner, cercava in vano dei sanitari insoliti per la sua casa e alla fine decise di inventare tutto da solo. E c'è riuscito. I corpi dei lavabi e delle vasche non sono più scolpiti a mano, ma fresati a CNC. Ma ogni oggetto richiede ancora dalle 100 alle 240 ore di lavoro manuale. Oggi ci lavorano 9 professionisti entusiasti. Le vasche da bagno più belle del mondo richiedono i materiali migliori. Ammonitum offre una selezione di più di 60 specie di legno prezioso. La nostra tecnologia di superficie unica protegge il legno dall'acqua per decenni. La superficie laccata non richiede cure particolari. E può essere sempre riportata alla sua condizione originale tramite lucidatura. Tempo di utilizzo illimitato. 20 anni di garanzia. Ammonitum. Nessuna alternativa al mondo.